Marciapiedi sbrecciati, buche, segnaletica poco chiara di piste ciclabili e strisce pedonali sbiadite. Un reportage, quello di Rete Veneta, che grazie alle vostre segnalazioni ha messo in luce alcune vulnerabilità lungo la rete stradale della città, tra cui anche il centro studi di Bassano del Grappa. Una zona frequentata ogni giorno da centinaia e centinaia di studenti, un quartiere già sotto i ferri dell'amministrazione comunale. Nel centro studi è stata rifatta tutta via Rosmini, tutti i passaggi pedonali e tutti gli incroci via Rosmini. Adesso appena la ditta ha terminato alcune situazioni si sposterà anche nelle parti più interne, in questo caso via Santa Croce e via Tommaso d'Aquino sono le due vie frequentate dai ragazzi, verranno rifatte sicuramente le segnaletiche orizzontali degli attraversamenti. E se parliamo di piste ciclabili invece la situazione sembra complicarsi. Di lì c'è un problema invece di gestione delle ciclabili, è un problema annoso che non è di facile soluzione perché siamo in un tratto un po' misto, ci sarebbe bisogno di sistemare un lato sinistro scendendo di via Santa Croce dopo via Tommaso d'Aquino, anche lì ci sono dei pensieri, dei pensieri fatti anni fa, ne stiamo facendo di nuovi, speriamo di trovare la giusta soluzione.